Il nuovo stadio Sant'Anna di Battipaia non verrà rifatto. Il progetto di restyling ideato e fortemente promosso dall'assessore Michele Gioia non è stato ammesso ai finanziamenti del Fondo Governativo Sport e Periferie. L'amministrazione comunale aveva chiesto 960 mila euro per i lavori di rifacimento e per la manutenzione del campo sportivo inaugurato nel 49. Lo scorso dicembre la Giunta ha deciso di sottoporre il progetto di Gioia all'attenzione del CONI che l'ha bocciato.